Benvenuti in Bandino Club Real, al netto delle tensioni governative che non ce ne possono fare. Comunque il lanetto vorrebbe entrare in politica, non so, con l'ingellato, non si capisce. Va bene, comunque, poi le battute, i battutisti. Ormai i politici sono dei battutisti, dei battutisti, così si finisce in prima pagina sparando a zero su regioni nelle quali ci sono governi in transito. Va bene, comunque, l'intelligenza egiziana arresta gli avvocati di Patrick Zaki, ennesima figura DM della diplomazia italiana, chiaro, questa è la figurina dell'Italia. Immaginiamo che Patrick Zaki fosse un cittadino americano, andava diversamente, sicuramente andava diversamente. Dopo Giulio Regeni subiamo l'infamia anche di Patrick Zaki, un diplomatico, uno studente che ha avuto la colpa di fare una tesi sull'omosessualità, pensate. Una grave colpa. Purtroppo in questi paesi non esiste la democrazia, prendiamone atto. Comunque, sembra tra l'altro che sia stato torturato per 17 ore consecutive. Sono stati arrestati anche gli avvocati, quindi non si capisce come questo ragazzo si possa difendere davanti alla corte. Era uno studente, tra l'altro, dell'Università di Bologna. Al prossimo video, solidarietà per Patrick Zaki. Teniamo alta la voce dei diritti umani. Patrick Zaki libero! Purtroppo in questo video, solidarietà per il nostro corpo.